Impresa della Turris che spugna il Barbera di Palermo nei secondi finali di una partita sofferta con Pandolfi. I corallini reduci dall'ottimo pareggio contro il Catania affrontano il rosanero nel recupero della partita rinviata per l'emergenza covid che aveva colpito i padroni di casa. Si rivede lungo tra i titolari ma è il Palermo a fare la partita costringendo la Turris sulla difensiva ma la squadra di Fabiano regge l'urto fino all'intervallo chiudendo sullo 0-0. La ripresa vede i corallini più arrembanti e pericolosi ma il portiere siciliano non corre grossi pericoli fino al novantesimo. Nei minuti di recupero però il Palermo tutto sbilanciato in avanti in cerca del gol vittoria subisce il contropiede ospite con Pandolfi che raccoglie un lungo lancio dalla difesa, supera due difensori e batte Pelagotti in uscita disperata. È il gol vittoria che regala alla Turris tre punti preziosi quanto isperati, consente di mantenere l'imbattibilità esterna e permette ai corallini di preparare nel migliore dei modi un trittico terribile che li vedrà opposti dopo il turno di riposo a Catanzaro, Teramo e Ternana, tre delle prime cinque in classifica dove si scoprirà quanto vale davvero questa Turris.